Bisogna rinnovare, bisogna ringiovanire, tu e io, siamo dei vecchietti, cosa andiamo a dire ai giovani di oggi? Parliamo del futuro dei giovani, abbiamo un piede nella tomba, tu quale hai? Io l'altro giorno ho incontrato un mille piedi nel mio giardino, aveva 500 piedi nella tomba, mi ha guardato male e mi ha detto, taci, io ne ho uno, tu ne hai 500, quindi state zitto. Era venuto ad Arcore, era te che ti ha ammantato. Era venuto ad Arcore per me. Mi ha detto che io avevo un'attenzione particolare per il verde, per le piante, per le fiori e anche per gli insetti. Invece gli ho detto, insetti in politica ce ne sono tanti, ma io me ne frego.